Si conserva nell'ascolto di più il senso del non terminato, cioè di qualche cosa che appunto perché non ha alcun limite getta in uno stato di sgomento. E infatti, dice Leopardi, ove per poco il corno non si spalga. Cioè, questa assenza di confini, questa assoluta assenza di rumore, questa assenza di movimento, genera in uno stato di sgomento, di smarrimento e di paura. Ora, quindi l'infinito appare come silenzio assoluto, come criete assoluta, come assenza di ogni punto di riferimento. Quindi, l'infinito è immaginato in un certo senso come negazione dell'essere, come niente, cioè come negazione di tutto ciò che ci accompagna nella vita, perché è un continuo percepire l'esistenza in sostanza. D'altra parte, Leopardi, sempre nel maggio del 1826, quindi parecchi anni più tardi, ma come vi ho detto, secondo me, lui dello Zibadone torna molte volte sull'esperienza dell'infinito. Lui dice, certo, secondo le leggi dell'esistenza che noi possiamo conoscere, cioè quelle dedotte dalle cose esistenti che non conosciamo o sappiamo che realmente esistono, l'infinito, cioè una cosa senza limiti, non può esistere, non sarebbe cosa. Pare che solamente quello che non esiste, la negazione dell'essere, il niente, possa essere senza limiti e che l'infinito vende in sostanza ad essere la stessa cosa che il nulla. Quindi l'infinito gli appare come una totale assenza di esistenza, come il nulla in sostanza. Quindi sul colle lui ha percepito il senso del nulla che è il senso della privazione di ogni percezione, cioè di ogni marca dell'esistenza. In un certo senso noi possiamo trovare la conferma di questo senso del nulla che lui ha espedito e così è espresso con infiniti silenzi profondissimi a queste in termini di antispazi nel cantico del caos in destra, che è un'operetta del 1824 in cui Lopardi descrive ad un certo punto la totale scomparsa dell'universo, ciò che accadrebbe se scomparisse totalmente l'universo. E descrive la scomparsa dell'universo così, un silenzio nudo e una quieta altissima entieranno lo spazio immenso. Quindi come vedete anche qui torna il silenzio, la quieta e lo spazio immenso. Cioè anche qui il nulla, la scomparsa di ogni forma di esistenza appare con gli stessi termini. Ora Blasucci, che è un grande studioso di Lopardi, fermandosi su connotazioni di carattere puramente formale, ritiene che mentre la notazione del Dio infinito si rifaccia in qualche modo all'indefinito anch'esso, cioè il silenzio e la quiete, negli Dio funzioni come riferimento ancora all'indefinito, mentre nel Lampico, nel canto del Gato Silvestre, si farebbe riferimento ad una morte dell'universo. Invece io ritengo che sia nell'infinito, sia nel cantico, ci sia la stessa percezione del nulla. Tanto è vero che Leopardi dice ad un certo punto che per poco il cuore non si spavula. Cioè il cuore ha provato sgonetto, l'anima ha provato sgonetto di fronte a questa percezione dell'unica. Dico questo perché va sottolineato il fatto che spavula, scoletto, sbagliamento e paura, si trova proprio al centro del comportamento dell'infinito. E quindi sostanzialmente è una notazione affettiva in cui lunga totalmente l'atteggiamento, lo stato d'anno che lui aveva descritto all'inizio, così come è profondamente diverso rispetto allo stato d'anno che descriverà la vita e descrive uno stato di sgonetto. Ma anche qui interviene ora una nuova percezione, una percezione acustica. Ecco, prima era la vista, lo sguardo che spaziava nello sguardo, nell'infinito, l'osservazione e infine una percezione acustiva. E come il vento odostone tra queste piante. A proposito del piacere che provoca tutto ciò che presenta contorni incerti, vari, indefinibili, perché con l'indefinitezza, con la sua indefinitezza genera l'inquestione di un piacere infinito e libera l'immaginazione, nel 21 gli opardi vi porterà l'esempio del piacere dello stromile del vento. Quindi con il vento odostorni tra queste piante. Il piacere prodotto dallo stromile del vento quando freme confusamente in una foresta oltre ai vari oggetti di una campagna. Perché oltre la vastità, l'incertezza e la confusione del suono non si vede l'oggetto che lo produce, già che il vento non si vede. Quindi tutto ciò che presenta contorni incerti sprigiona la nostra immaginazione. Ora, la percezione dello stromile del vento genera il piacere che nasce dalla sua indeterminatezza e dall'indefinito vagare della vente, dall'immaginazione che esso provoca. E accanto a questa vaghezza dello stromile del vento dobbiamo dire che nel 1820 gli opardi si sofferma sugli effetti spirituali della sensazione del suono in quanto tale. E cioè sul fatto che secondo lui lo stimolo acustico agisce immediatamente sull'immaginazione, innesca immediatamente uno stimolo immaginativo. Il piacere che ci dà il suono non va sotto la categoria del pello, ma è come quella del gusto, dell'odorato, eccetera. La natura ha dato i suoi piaceri a tutti i sensi, ma la particolarità del suono e di produrre per sé stesso un effetto più spirituale dei cibi, dei colori, degli oggetti tastarabili. E tuttavia osservate che gli odori, in grado pensi molto più piccoli, ma pure hanno una simile proprietà, risvegliando l'immaginazione. La onda e quello stesso spirituale del suono è un effetto fisico di quella sensazione dei nostri organi. Quindi il suono, rispetto a tutti gli altri sensi, innesca immediatamente un'attività mentale, un procedimento mentale. Che cosa succede allora sul colle? Egli sente lo stornire del vento tra le piante della siepe e scrive Io in quell'infinito silenzio a questa voce l'ho comparando e mi soviene eterno e le morte stagioni e la presente è viva e il sonno di lei. Questo suono indefinito dello stornire del vento suscita il piacere dell'errare del pensiero, del vagare della mente e, dice lo parli, obbliga piacevolmente l'anima all'azione. Ora, questo stornire del vento, questo suono confuso, richiama per contrasto l'idea spaventosa dell'infinito silenzio, cioè la voce del vento richiama per contrasto l'idea mentale, l'immagine mentale che in cui si era creato dell'infinito silenzio degli interni spazi. E ciò fa fiorare alla mente il contrasto tra il rumore della vita presente, la stagione presente e viva, e il silenzio vuoto dell'eternità, del tempo passato e di ciò che è finito per sempre. Dunque, anche l'eterno, in Leopardi, come anche l'infinito, che si presentava soltanto come perdita delle percezioni, l'infinito spaziale, come vuoto assoluto, come perdita delle percezioni, anche lì l'eterno non ha carattere spiritualistico, non è ciò che al di là della transitorietà del tempo, ma il carattere di ciò che sembra un maiprimo di vita è immerso nel silenzio. Dice Leopardi nel 21, l'orrore e il timore che l'uomo ha per una parte del nulla, per l'altro dell'eterno, si manifesta dappertutto. Quindi, sia il nulla che lui aveva concepito di fronte all'immagine dello spazio, così come l'idea dell'eterno suscitano terrore. Così, fra questa immensità, Sannega e il pensierino, è una fragarme dolce in questo umano. Così, in questo rapporto tra l'eterno e il tempo, si consuma ora l'esperienza di Leopardi. originalmente, lui aveva scritto tra questa infinità, Sannega e il pensierino. Poi, corregge con la parola, prima con la parola, prima lui aveva scritto immensità, la corregge con infinità, ma nella stampa del nuovo recognitore del 25, quella bolognese del 26, è sostituita a partire con immensità. una parola questa che contiene più dell'idea di infinità l'idea della perdita dei confini. È la sola vastità, a proposito del vasto, lui aveva scritto, la sola vastità desta nell'anima un senso di piacere da qualunque sensazione fisica o l'orale e la correga e per mezzo di qualunque dei cinque sensi. Bisogna distinguere il vasto da un vado o indefinito. L'uno e l'altro piaccia all'anima per le stesse ragioni, ma ci può essere un vasto che non sia vago e un vado che non sia vasto. Non di meno queste qualità si ravvicinano sempre quanto all'effetto che fanno sull'anima. E ciò perché le sensazioni vaghe sono sempre vaste in quanto e sempre indefinite non hanno termini e le sensazioni vaste sono sempre indefinite in quanto l'anima non arriva ad abbracciarne tutte intere e però non può contenerle né giungere a sentire pienamente i loro termini. Quindi la parola vasto, tutto ciò che è vasto e quindi anche l'immenso genera piacere proprio perché noi non riusciamo ad abbracciare i confini. In questo inabissarsi della mente nella comparazione tra il vero e il tempo in questa meditazione senza fondo in questa oscillazione della mente tra il silenzio del passato e il suono della vita presente si realizza il piacere del naufragio del pensiero che affonda dolce l'è in questa inafferrabile immensità come nella vastità del mare. Nelle note sulla teoria del piacere lui scrive nel 1820 la malinconia il sentimentale moderno perciò appunto sono così dolci perché immergono l'anima in un abisso di pensieri indeterminati dei quali non sa vedere il fondo né i contorni. Dunque l'inte della sieve l'ostacolo che essa aveva opposto al desiderio del piacere al piacere dello spaziale e dello sguardo si era rovesciato nella rappresentazione pausa dello spazio illimitato come vuoto assoluto. Ora invece la comparazione tra l'infinito stornire del vento e il silenzio tra il silenzio e la voce provoca il piacere del vagare indeterminato della mente tra eterno e tempo un vagare della mente simile a quello che nell'ignoranza delle cause determinava la visione antica della natura cioè gli antichi non conoscendo le cause dei fenomeni vagavano con la loro immaginazione vagavano con la mente creando così il divino conteggiamento di idee confuse e brillanti ora vi assumiamo un po' questo che abbiamo detto il punto a cui dobbiamo fare a cui dobbiamo riferirci è che per gli ocari vivere e sentire e la poesia che attraverso l'arte dello scrivere risponde a desiderio infinito di sentire ad un certo punto lui scriverà l'uomo desidera infinitamente di sentire non di conoscere non solo appartiene all'ordine del piacere ma è quanto di più vicino alla vita stessa in questo senso il divino di Leopardi assumendo come getto l'infinito stesso e rendendolo percepibile sensibile e in un certo senso la rappresentazione della poesia stessa naturalmente questo è ottenuto attraverso una serie di accorgimenti formali l'abbiamo visto attraverso l'uso di parole indefinite ma pure anche attraverso l'orchestrazione ritmica e metrico sintattica con l'uso di angiagnonale pause logiche particelle congiuntive che legano tra loro proposizioni e periodi che generano impressioni di un continuo oppure di onde successive che si placano soltanto nel verso finale e ora in questa osservazione della vita dei sensi più che al sensismo più che riferirci al sensismo dobbiamo fare riferimento agli ideologi con le loro ricerche indirizzate all'analisi delle idee non a caso Lopardi molto giovane aveva scritto che la metafisica senza l'ideologia è paragonabile a ciò che era l'astronomia prima che vi fosse applicata la matematica in particolare possiamo trovare una relazione col medico filosofo Cabanis il quale tra il 1796 e il 1802 aveva scritto un trattato sui rapporti tra il fisico e il morale dell'uomo che era stato tradotto in Italia nel 1820 ora come per Lopardi anche per Cabanis vivere e provare sensazioni che avrò molta queste sensazioni però per Cabanis diversamente che per i sensisti e per Condiac non corrispondono soltanto all'azione degli organi di senso esterni ma anche al sistema interno della sensibilità e tuttavia la tematica del desiderio che forniamo in Lopardi l'idea di un impulso al piacere che non ha inarrestabile che non ha confini questo impulso al piacere che non corrisponde con le sensazioni particolari di piacere fa sì che Lopardi abbia introdotto una tematica che è del tutto originale grazie nel rapporto con la teoria del vago dell'indefinito con la teoria del piacere quindi è tutto perfettamente organico nel tuo discorso e io ho imparato tanto adesso voglio presentarvi anche l'altra persona che oggi collabora con noi che è Ruben Carmine Casolino professore di estetica del grado in filosofia e del grado in derecho e filosofia professore e master in psicoanalisi e teoria della cultura in questa facoltà doctor in filosofia e ha pubblicato diversi articoli e capitolini di libros o Lacan Derrida Freud e Heidegger coeditor del volume aspectos di Derrida Derrida e psicoanalisi quindi lui è molto interessato al pensiero di Gliopardi anche lo spiega nelle sue lezioni perché ha fatto diverse indagini a proposito del canto del valo silvestre che è uno dei testi di cui parli nelle tue lezioni e quindi lui avrà tante una o due domande da farti per iniziare questo dibattito grazie grazie innanzitutto per l'invito e grazie anche a voi per essere qui si è effettivamente il mio approccio rispetto a Leopardi a questo idilio Leopardi in generale è effettamente filosofico non viene dall'estetica l'estetica è anche un problema a volte cioè l'estetica è apparente un problema a creare è che l'analisi estetico purtroppo sempre si riferisce al caso concreto in cui si applica quindi molto spesso l'estetica è come se volesse fare quasi una specie di epoche fenomenologica quindi si riferisce soltanto in questo caso all'idilio senza pensare che prima dell'infinito ci siano altre poesie altri scritti o che dopo ne vengano altri per questo non può produrre nessun tipo di regola o di concetto perché precisamente si riferisce solo a questo e qui inizia e qui finisce quindi già la difficoltà e anche un po' l'impossibilità è questa a me e tutto quello che ha detto la professoressa mi ha interessato enormemente perché sono aspetti che spesso cerco anch'io di spiegare in un modo non è insufficiente a lezione anche sulla questione per esempio della dimensione del ricordo della rinnovazione così direbbe no la questione del ricordo che effettivamente sembra totale nel senso che non sappiamo se in qualche modo in questo idilio si esce dal ricordo se soltanto e quello è interessante perché sembra quasi che ci sia nell'origine già una riconuzione cioè come se soltanto una ripetizione esatto come se soltanto ci fosse per esempio ricordo questo dubbio che chiedo insomma se effettivamente anche quando l'avversativa che ha sottolineato la professoressa ti dice ma che implica effettivamente un cambio di posizione se lì usciamo dal ricordo o se è sempre ricordo per esempio una delle questioni interessanti è un altro aspetto che beh a parte poi come diceva la professoressa l'apparente semplicità cioè questo utilizzo forse è nato dei dimostrativi sembra quasi che il dimostrativo cercasse effettivamente di poter dimostrare qualcosa che alla fine non riesce a dimostrare veramente e poi un'ultima questione così voglio lasciarmi la parola anche a voi più che altro è la questione che gliopardi e questo si unisce un po' con quello che ha detto la professoressa unendo l'infinito con il finale del cantico del regalo silvestre quando nel cantico del regalo silvestre non si dice a tempo verranno che questa natura e l'universo medesimo sarà spento però in gliopardi c'è una questione che torna anche qui con i dimostrativi che non riescono a dimostrare cioè il problema dell'esistenza di questo arcano universale non viene non viene svelato cioè qui c'è un problema filosofico moderno è che la verità come certezza non corrisponde alla verità come consistenza cioè non è la stessa cosa chiedersi che cos'è questo o quest'altro che chiedersi in che cosa consiste essere questo o quest'altro cioè in gliopardi sembra quasi che la cosa rimanga effettivamente aperta non c'è una risposta anzi c'è un naufragio dolce quindi ritorno alla questione della sensazione però c'è questo problema filosofico per eccellenza che io molte volte da questa poesia o dalleopardi in generale porto diciamo o trasporta l'estetica soprattutto l'estetica moderna quando nasce nel diciottesimo perlomeno la parola diciamo l'estetica nasce nel diciottesimo secolo quindi erano un po' queste questioni che volevo magari possiamo parlare allora diciamo che queste questioni sono state affrontate molto puntualmente da prende e quindi io non lo so se implicavano con queste ermocole certo sembra che intanto diciamo che per notarti la memoria è ripetizione cioè l'oggetto ha lasciato nella mente una traccia e questa traccia ritorna e quindi non è l'oggetto che ritrova è la traccia che è rimasta nella mente e indubbiamente sembra che ci sia uno scatto qui tra sempre caro mi fu ma io non lo intenderei con semplicemente come lui lo descrive sempre caro mi è stato questo ermocole cioè che qui lui registra un'esperienza reale che lui registra un'esperienza reale questo conio mi è stato sempre caro per queste ragioni ma sedendo e mirando ma osservando attentamente la sempre si sviluppa questo fenomeno in particolare questo fenomeno della percezione del nulla forse dovremmo anche allora a questo punto richiamare ciò che Lopardi scrive per esempio nel 1820 in Angelo Mai dice ah hai hai ma conosciuto il mondo non cresce anzi si scena e ha stato in vasto l'entra sonante e l'alma terra e il mare al fanciullin che non al saggio appare e aggiunge dopo e discoprendo solo nulla si accresce cioè secondo me in questo testo Lopardi sta facendo riferimento ad una tematica che poi svilupperà molto proprio in quegli anni tra il 18 e il 20 e cioè la discrepanza che c'è tra l'osservazione scientifica che delimita i fenomeni e l'immaginazione che risponde invece all'istinto del piacere e quindi la sempre osservata attentamente provoca la percezione del nulla è un cambio di prospettiva che si è realizzato e questo io credo che proprio lui qui faccia riferimento a a a a a una condizione che gli è presente in quel momento cioè non è che lui scriva l'ediglio nel momento in cui sta sul pollo sempre la scrittura è una denoria è una ripetizione dell'atto della scrittura c'è la presenza e l'assenza in sostanza però lui tende a registrare uno stato che deve avere esperito effettivamente e quanto al rapporto tra conoscenza e e e creazione in sostanza e io credo di dover dire che in Leopardi la poesia lui dice in sostanza che la poesia è conoscenza e tuttavia nel modo in cui i poeti esprimono questa scienza c'è qualche cosa in più che solo i poeti riescono a dare questo è un problema questo è un problema perché chiaramente sappiamo sempre che ci sono due questioni sempre diciamo che ci sia sempre conoscenza che ci sia sempre una decisione il problema è che noi andiamo lui dice che c'è una corrispondenza tra la conoscenza razionale e la conoscenza poetica cioè la conoscenza poetica e questo tutto Leopardi è presente cioè in Leopardi c'è un elemento razionale che è presente a livello anche poetico cioè molte volte tematiche che ha sviluppato Nell'Usi Daltone tornano nella poesia e tuttavia lui gli aggiunge un elemento che si riferisce alla capacità degli uomini di percepire in sostanza lui dice che la poesia usa la poesia fa riferimento alla poesia perché ritiene che l'uomo modello sia inaridito e la poesia tocca un livello che il mondo modello della civilizzazione ha portato alla distruzione in sostanza cioè io ovviamente come tu hai detto dovendo leggere l'infinito ho voluto trascurare una serie di altri elementi per quanto riguarda la posizione di Leopardi ma certo la critica alla civilizzazione è uno degli elementi che accosta Leopardi alla poesia lui si accosta alla poesia proprio in polemica con la civilizzazione per questo lui è polemico anche con i dialisti perché secondo lui il dialismo come dire non fa altro che confermare confermare il cambio della modernità mentre per lui la modernità la criticava c'è anche un'altra questione che era stata sottolineata mi pare che ci sia una specie di un sentimento quasi di inquietudine per cui deve quasi toccare una categoria estetica più moderna e contemporanea quella che si spaluce come lo siniestro in Italia non so forse il perturbante che sembra quasi che ci sia una specie di profonda inquietudine nell'aver potuto generare nel finito l'infinito il fatto che pensa che questo pensiero che immagina e il problema è che perché immagina però poi riesce a dare soli e a